ciao benvenuti come al solito abbiamo trovato un paio d'ore libere adesso facciamo un giretto in questo mini bosco poi mi avventuro su per la stradina che c'è qua che ci sono due ville abbandonate più sopra che ero già andato a visitare un paio di tempo fa ma non ho mai fatto nessun tipo di video e quindi approfitto per fare un giretto sono sperduto in mezzo a niente non sono mai stato qua a spazzolare quindi vediamo come come procede perché non ho idea di se ci sia o no qualcosa speriamo perché ultimamente qua siamo abbastanza sfigati e il garettino già impostazione adesso vediamo un giretto di qua vediamo com'è qua c'è una strada qua c'è il mio trattore ho appena cambiato le gomme ho già smardato fuori tutto che c'è un pantano in giro che metta basta un giretto qua sopra anche si potrebbe fare ci sono un po di sterpaglie però magari ci si arrampica dopo qua c'è un infinità di verde da tutte le parti non dovrebbe piovere perché ho messo il luvoloso oggi vediamo com'è io vi consiglio sempre di seguirmi sulla pagina di cliccare la campanella mentre mi piace seguirmi ogni settimana carico sempre video nuovi quindi magari troverete qualcosa di interessante laggiù si può vedere vi faccio un po di zoom quello lì è il castello mi trovo in friuli vicino udine ecco qua e che sempre in fase di ristrutturazione non so perché sono 50 anni che lo ristrutturano e niente dai andiamo a recuperare il garettino e cominciamo a fare un giretto appena trovo qualcosa vi faccio il video ok ciao